Buonasera, ciao a tutti e a tutti quelli collegati. Con oggi facciamo un altro nuovo appuntamento della Digital School di Aruba Business, che sono 5 incontri su Digital Marketing a cura di Search on Consulting e questa è la seconda edizione. Oggi vedremo le potenzialità dei social media per la promozione dell'e-commerce e dal punto di vista di attività organiche che paid. Durante la presentazione se avete domande mettetele pure in chat che a fine intervento le andiamo a leggere e a rispondere. Io mi presento, sono Francesca e sono del team di Search on Consulting e mi occupo principalmente di social media. Quindi direi di iniziare. Dunque, parliamo di e-commerce, quindi parliamo di vendite e di percorsi che gli utenti fanno per procedere all'acquisto. Il fan del conversione classico, che è quello che vediamo nella slide, che adesso metto in presentazione, scusate, prevede un percorso di acquisto pressoché lineare e che va dalla parte in cui un utente entra in contatto, viene a conoscenza di un prodotto per poi arrivare all'acquisto. Questo funnel classico si è evoluto ed è più vicino a un funnel di questo genere, un po' più fluido, in cui i vari step del percorso di conversione si alternano, si sovrappongono, a volte si saltano qualche passaggio, a volte invece si allunga e si creano così anche dei nuovi touch point. Cos'è che rende così fluido questo funnel di conversione ed è diventato il mal di testa di chi fa digital marketing? diversi fattori. Troviamo ad esempio il messy middle, cioè la definizione del nuovo funnel di conversione battezzata da Google dove viene descritto come uno spazio dove ci sono abbondanti informazioni, quindi tantissima scelta per gli acquirenti che rendono questa ampia scelta di un mercato sempre aperto 24 ore su 24 con tanti venditori e tante possibilità di acquisto e rende i percorsi di conversione degli utenti sempre più imprevedibili. E qui si creano quindi dei nuovi touch point e che possono essere dell'opportunità per chi fa digital marketing ma c'è anche il rischio che si rincorrano e quindi diventa sempre più il percorso così lineare diventa un po' più articolato. Parliamo di messy middle, ma parliamo anche di possiamo anche allargarlo e parlare di messy marketing considerando che è sempre di più ormai online e offline e si fondono sempre di più. C'è tutta poi la parte di machine learning e di intelligenza artificiale, quindi macchine che funzionano se gli forniamo dei dati e autoapprendono nel lungo periodo. C'è il concetto di multicanalità e si possono fare acquisti direttamente su Google facendo ricerche nella sezione della SERP, quindi digitando parola e chiave cercando delle informazioni o dei prodotti, ma direttamente nella sezione shopping si cerca un determinato prodotto e magari vogliamo già vedere ad esempio se andiamo in cerca di uno smartphone quanti megapixel ha la fotocamera piuttosto che il prezzo. Possiamo andare nella sezione news, ma oltre a Google posso cercare queste informazioni sui social, informarmi magari guardando qualche tutorial o qualche video di comparazione su YouTube, posso vederlo da PC, posso guardare da mobile, insomma le varie fonti diventano tante. e poi c'è il paradosso della scelta, cioè avere un'ampia scelta in realtà è un plus, però dal punto di vista del potenziale acquirente rende i processi decisionali più lunghi perché li manda un po' in crisi avere così tanta scelta. quindi se nel funnel classico chi si occupa di digital marketing deve in qualche modo progettare le frecce che vediamo sul primo funnel per accompagnare l'utente fino alla conversione, le azioni sul funnel fluido rimangono sempre progettare delle azioni che portano un utente verso la conversione ma chi si occupa di social media e di social media marketing nel nostro caso deve imparare a orchestrare i vari touch point che dal contesto del messy middle o del messy marketing cercare di tracciare i dati in modo da alimentare il machine learning sia per quanto riguarda gli algoritmi ma soprattutto nel nostro caso per quanto riguarda le campagne di advertising cogliere l'opportunità dei vari canali se ad esempio nel primo funnel noi cerchiamo di capire quale tattica è migliore nel contesto della strategia per portare alla conversione e quindi magari anche individuare il canale e il mezzo più opportuno anche in questo caso nel concetto di multicanalità e utenti sempre connessi e dobbiamo essere bravi a capire l'opportunità dei vari canali di promozione e lo ripeto in questo caso comunque è il focus e vedremo l'opportunità dei social media quando poi andiamo a creare i nostri annunci pubblicitari per i social o magari un post o lo script del prossimo reel cerchiamo di tenere in considerazione anche i bias comportamentali per cercare di aiutare gli utenti a scrollarsi un po' di dosso l'ansia del paradosso della scelta e poi sempre avendo uno sguardo verso il domani cercare di studiare e accogliere sempre di più le opportunità che l'intelligenza artificiale possono aiutarci nel velocizzare, automatizzare il nostro lavoro per quanto riguarda il machine learning nel social media degli esempi li abbiamo nelle dinamiche del discovery commerce o nelle nuove campagne meta advantage plus o per campagne con pubblico brodo ossia senza una vera e propria targetizzazione si lascia la macchina lavorare questo ovviamente però necessita di abbastanza dati per riuscire a impostare il navigatore correttamente per quanto riguarda invece il messy middle, il messy marketing per quanto riguarda i social media un focus potrebbe essere nel concetto di social shopping che ricalca proprio il termine shopping non tanto ho necessità di un prodotto lo cerco e lo compro perché devo soddisfare un bisogno ma proprio nel piacere di andare a vedersi le vetrine perché mi piace magari quel tipo di prodotto quel tipo di vetrina e poi se capita che mi piace qualcosa lo compro giusto per andare incontro anche e avere un occhio di riguardo sulle modalità di acquisto o di comportamento dei nostri potenziali clienti e poi c'è l'instant shop quindi l'acquisto di impulso quindi come cogliere le opportunità dei canali social ora andiamo un po' più nel concreto però volevo farvi questa panoramica introduttiva sull'evoluzione del funnel di conversione che in parte per chi l'ha seguito l'ha già visto nella lezione di Marco Quadrella per invitarvi a utilizzarla come chiave di lettura o ragion critica per applicarvi poi per l'applicare nelle vostre strategie di social media nelle vostre strategie di social media marketing le potenzialità dei canali vediamo come un e-commerce può promuovere i prodotti sui canali social con banalmente ho preso l'esempio più semplice un post sul prodotto che magari spiega le caratteristiche la convenienza e vari punti di forza con un post quindi immagine e testo ma i social sono interessanti anche perché ormai sono un punto un touch point molto importante per quanto riguarda il customer care dipende molto dal tipo di acquisto ma ad esempio se dovete acquistare un prodotto che magari costicca un po' di più ci sta che il percorso di acquisto del vostro potenziale cliente sia un po' più lungo rispetto ad un rossetto a 6 euro quindi l'utente sarà portato a chiedere maggiori dettagli sul prodotto sul tipo di consegna eccetera e quindi la parte di customer care che spesso avviene attraverso i social diventa un elemento importante qui come esempio ho messo messages ma potrebbe essere anche il direct di Instagram e le varie chat dei social la presentazione del prodotto al di là che con video e immagini possono essere anche raccontati attraverso delle live questo è un esempio di un e-commerce multimarca che ha anche dei negozi fisici e fa queste live aprendo le porte del proprio negozio quindi magari mostrando anche in parte la loro realtà e promuovono fanno vedere e rispondono alle domande in diretta su determinati prodotti poi ci sono i social essendo in parte anche una vetrina tutte le promozioni delle offerte è appena terminato il Black Friday quindi credo che siete molto confident con questo tipo di inserzioni quindi grafiche countdown direttamente schede prodotto shooting nelle varie modalità la promozione delle offerte la promozione prodotti qui mi sto focalizzando un po' più sulla parte e-commerce quindi prodotti questi sono degli esempi di advertising di TikTok dove si vede in fondo la parte del prodotto che compare nei video di sottofondo quindi c'è il misto tra la parte un po' più verticale sulla promozione del prodotto con la scheda quindi magari titolo del prodotto e prezzo e sotto un video coinvolgente i social sono poi hanno fatto dei grandi passi avanti per quanto riguarda la parte di shopping quindi digitando proprio sul motore di ricerca dei social qui vediamo un esempio di Pinterest il primo digitando borse nere posso scegliere se andare nella sezione di esplora o nella sezione di acquista o profili se scelgo la selezione di acquisti cliccando sul prodotto questo mi indirizzerà su un link accessibile subito al sito dove posso poi completare l'acquisto quindi diciamo che il funnel in questo caso è abbastanza facilitato è uguale su Instagram dove vedo il tag prodotto su un'immagine e mi manda la scheda prodotto sempre all'interno di Instagram ma cliccando su vai al sito posso procedere all'acquisto attenzione su questo fronte Meta sta facendo un passettino indietro mentre prima la sezione shop era molto in rilievo come lo è ancora tuttora su Pinterest sembra che Meta stia facendo un passettino indietro perché non mi ricordo il tempo esatto ma credo se ne vado a memoria un mese massimo due mesi fa hanno eliminato le tap shopping vedremo il prossimo step se fa marci indietro o se ritorna sui suoi passi una cosa interessante poi dei brand che utilizzano magari i filtri soprattutto per prodotto per prodotti di make up o accessori è il fatto anche di permettere all'utente di provarlo il prodotto quindi magari decido di acquistare gli occhiali senza andare al buio senza magari fare una tappa in negozio vedere come vanno e poi magari comprarli online perché è uno sconto sui social voi potete anche avete l'opportunità di raccontare e promuovere il vostro brand o i vostri prodotti attraverso lo storytelling la peculiarità che resta nei social nelle varie evoluzioni dei canali di promozione è proprio perché i social sono nati per crearsi delle community per creare connessioni quindi mettere in contatto persone magari associate da passioni molto simili o affini e per natura poi dell'impostazione delle piattaforme si ha grande spazio alla parte di commenti quindi ecco la parte di community e dialogo resta una peculiarità dei canali social quindi l'invito è quello di non sottovalutare questa parte perché è un punto di forza e per l'e-commerce può essere molto interessante per fare lo storytelling del brand o del prodotto quindi raccontare come si crea un brand o come è nato l'idea del nuovo prodotto che avete messo online raccontare il team il lato umano che c'è dietro al prodotto anche perché sono tutti elementi che avvicinano l'interesse e in qualche modo la fedeltà dell'utente verso un prodotto come abbiamo visto prima poi sui social si possono fare anche delle ricerche su questo è sempre stato un passetto indietro rispetto magari a canali dedicati ai motori di ricerca e lo è ancora però su questo fronte si sta evolvendo quindi non solo più ricerche per hashtag ma anche benissimo ricerche per parole chiave qui vediamo un esempio di instagram con la parola chiave occhiali da sole compaiono ovviamente foto che possono essere reel caroselli eccetera o prodotti con il tag e diventa molto interessante su pinterest uguale anche qua l'abbiamo visto prima si può poi accedere alla sezione acquista se il nostro intento è già vedere magari già valutare degli acquisti e si può fare anche la ricerca per immagini anche TikTok si sta evolvendo in tal senso quindi non più solo ricerche per hashtag ma proprio anche per parole chiave e qua come vediamo negli esempi messi nelle slide non solo nei primi risultati da i risultati più pertinenti ma vediamo anche le ricerche correlate e suggerite in più in qualche modo dà anche un po' una ricerca raffinata se lasciatemi passare il termine questo è un esempio di pinterest che magari cercando ad esempio il termine rossetti vi chiede che per quale tonalità di pelle lo state cercando e da lì non solo vi dà i primi risultati ma ulteriori elementi di altre parole chiave per raffinare la ricerca questo è molto interessante perché sembra che recenti studi hanno dimostrato che i giovani a volte tendono a preferire la ricerca sui social media come tiktok o instagram perché un po' pigri probabilmente nel leggere o semplicemente più confident preferiscono contenuti visivi che sono brevi immediati e raccontano molto bene il prodotto questo ve lo sottolineo perché è importante quindi valutare anche la parte di parole chiave quando create i vostri annunci per permettervi di rendere di dare più occasioni di visibilità al vostro prodotto qualora venga cercato ci sono anche dei tool molto interessanti ovviamente google trend rimane un tool molto utile anche per chi fa social per comunque valutare i trend di ricerca e gli interessi in determinati periodi dell'anno ma potete fare riferimento anche ai trend forniti da tiktok in questo caso non tanto per parole chiave ma per contenuti ed hashtag mentre c'è pinterest trend che anche questo è un tool gratuito funziona come google trends quindi funziona per parole chiave e non solo vi dà i picchi di ricerca ma vi danno anche le tendenze correlate e i pin più popolari perché tutto questo perché appunto come detto prima vi può essere utile nella creazione dei vostri copy ma anche per ispirazione su come magari fare il prossimo shooting di prodotti quindi abbiamo visto l'evoluzione del funnel abbiamo visto abbiamo fatto una breve panoramica delle varie modi in cui si possono promuovere i propri prodotti e servizi ma come scelgo cosa comunicare sui social vi propongo due step uno definire facendo una sorta di istantanea della vostra realtà che quindi fare proprio uno stato dell'arte di quello che è il vostro brand o prodotto attualmente in modo da non trascurare nessun aspetto dal punto di vista comunicativo proprio mettervi farvi una riflessione e chiedervi ma lo sto comunicando tutti i punti di forza del mio brand o del mio e-commerce e poi modellare quindi una volta definiti gli elementi comunicativi che insieme costituiscono l'entità del mio prodotto e servizio puoi modellarli rispetto al canale che andiamo in cui andiamo a comunicare e al target a cui ci rivolgiamo come fare l'istantaneo del nostro brand dal punto di vista della comunicazione ci sono diversi strumenti e tool che vi possono essere a supporto come ad esempio dei business model Canva ma focalizzati sulla parte di comunicazione io qui ve ne riporto uno che tendenzialmente a volte utilizziamo per alcuni clienti e questo vi permette rispondendo alle domande dei vari box vi permette appunto di fare l'istantanea di cui dicevamo quindi dalla parte di caratteristiche quindi quali valori quale visione tradistingue il tuo brand come è nato il tuo brand o come è nato il tuo nuovo prodotto che competenze ha il tuo team l'offerta quindi le responsabilità i servizi la credibilità quanto non so è stato il fatturato dell'ultimo periodo oppure avete vinto qualche premio il vostro prodotto è stato nominato a quali richieste rispondono quindi sono è la proposta di valore quindi il beneficio che il potenziale cliente ha nel momento in cui acquista il prodotto del vostro e-commerce e poi i pubblici quindi tanti di riferimento a cui volete puntare e anche un occhio ai competitor una volta che avete compilato questo schema potete distinguere nella prima parte gli elementi distintivi del vostro brand quindi cosa vi distingue rispetto agli altri perché all'inizio può essere interessante anche per ideare la parte visual e il claim e poi tutte le varie iniziative di storytelling nella parte dei pubblici andate a individuare il pubblico di riferimento e anche i canali perché dove c'è il vostro pubblico dovrebbe aiutarvi a capire in quale canale investire il vostro tempo e risorse ed eventualmente anche per la promozione di prodotti quali influencer contattare qualora vogliate percorrere quel tipo di promozione a quali richieste rispondi possiamo recuperare le comunicazioni promozionali come incentivo alla vendita dei miei prodotti che tipi di benefici otteniamo ad esempio se vendiamo una bici probabilmente un elemento richiesto è il fatto che sia sicura o se magari una bici da montagna che abbia delle ruote adeguate il termine corretto e così abbiamo individuato tutti gli elementi comunicativi dei nostri prodotti quindi gli elementi che caratterizzano il nostro prodotto e il nostro brand a quale target ci rivolgiamo e come creare le promozioni o comunque i contenuti promozionali quindi un po' più incentivati alla vendita una volta che abbiamo la nostra argilla in qualche modo costituita dagli elementi comunicativi andiamo a modellarla e per modellarla prendiamo subito come riferimento i pubblici quindi a cui vogliamo promuovere il nostro e-commerce o i prodotti del nostro e-commerce quindi decidiamo i canali e mezzi di promozione e qui quindi decliniamo i contenuti identificativi del brand e i contenuti promozionali e poi attenzione anche i contenuti dei competitor perché se agiamo nella stessa arena di mercato sicuramente ci saranno se agiamo nella stessa arena di mercato ci sarà ci sarà lo stesso pubblico probabilmente stimolato da noi e dal nostro concorrente inoltre è anche facile che promuoviamo entrambi o progettiamo entrambi gli stessi contenuti quindi cos'è dobbiamo individuare un aspetto distintivo che ci distingue magari l'avete vista e rivista però può essere un esercizio molto interessante crearvi una mappa di posizionamento nell'esempio nella slide abbiamo messo nei vari estremi un e-commerce che vende solo monomarca e un e-commerce invece che vende multimarca negli altri estremi vediamo che può essere un e-commerce che vende vari stili e un e-commerce che vende principalmente lo stile sportivo in questo caso il nostro e-commerce è un multimarca che vende stile sportivo andiamo a fare un'analisi dei competitor più vicini a noi e li inseriamo nella mappa di posizionamento attenzione perché c'è un competitor o un e-commerce molto vicino a noi che è quello cerchiato in rosso quindi in questo caso il rischio è che ci sarà una sovrapposizione di pubblico e potenzialmente una sovrapposizione di contenuti poi andiamo a modellare i nostri elementi comunicativi anche in base al target e il customer giorni abbiamo detto sì che il fan ed il conversione non è più così lineare ma comunque ci può essere lo stesso utile per identificare il messaggio perché comunque ci sarà sempre un momento in cui l'utente non conosce ancora il brand e magari dobbiamo farci notare e un momento invece in cui sa già che vuole quel prodotto ed è in una fase di comparazione quindi ovviamente se dobbiamo intercettare un pubblico che ancora non conosce il nostro brand nella parte alta del funnel potenzialmente potremo andare a creare un annuncio che attiri l'attenzione mentre nella parte di valutazione e comparazione potremo aggiungere nel nostro copy degli elementi che permettano all'utente di avere le idee più chiare e incentivarlo all'acquisto dopodiché sempre nella nella creazione dei vostri annunci potete sempre far riferimento anche i bias cognitivi come abbiamo visto prima per scrollarsi di dosso un po' l'ansia dal paradosso della scelta perché in un contesto in cui veniamo sovrastimolati da migliaia di informazioni al secondo le scorciatoie cognitive ci permettono di ottimizzare le nostre decisioni di acquisto quindi perché non fornirle nei nostri copy degli annunci di advertising ad esempio questo è uno schema proposto da Google dove cerca di inserire i bias cognitivi all'interno di una scheda prodotto di un sito è molto interessante e sarà complesso fare un post del genere ma perché non provare lo stesso approccio anche nel prossimo post social che deve andare in organico piuttosto che alla promozione del Natale degli annunci sponsorizzati per Natale o per il nuovo reel che andiamo a creare poi attenzione rispetto a quello che riguarda la comunicazione anche nella comunicazione all'interno dei feed i feed per chi promuove gli e-commerce vengono molto utilizzati sia per comparire ad esempio i feed scusate per la creazione dei cataloghi sui social come ad esempio abbiamo visto prima nella sezione Pinterest se riesco a caricare un catalogo nel business manager di Pinterest posso comparire nella sezione acquista che abbiamo visto prima oppure servono per creare gli advertising si possono utilizzare molto spesso i feed utilizzati per Google Shopping quindi quelli utilizzati per il Mentor Center ma comunque attenzione a come vengono creati o aggiunti i titoli e le descrizioni perché questo? Allora nella prima schermata vediamo nella gestione del feed all'interno di Meta un prodotto del catalogo quindi vediamo il titolo il contenuto il prezzo e poi tutte le varie voci che lo compongono e qui siamo all'interno della gestione del catalogo quando poi andiamo a creare un annuncio in questo caso dinamico possiamo indicare alla piattaforma di inserire il nome e il prezzo o tutti questi altri elementi quindi la descrizione il brand in modo dinamico quindi noi inseriamo e come compare qual prodotto comparirà ogni volta il titolo dedicato quindi qui adesso c'è product name che in questo caso è maglia in lana e questo adesso è un altro prodotto product name inserito qua in modo dinamico nel titolo viene visto qua con maglia in misto lana e il prezzo il prezzo mettiamo che facciamo un'ipotesi e decidiamo di mettere nome del prodotto e descrizione se io nel nome prodotto nella descrizione inizio sempre con il nome del brand che in questo caso potrebbe essere brand 1 comparirebbe titolo brand 1 maglia misto lana che poi sarebbe un titolo anche abbastanza lungo per lo spazio dedicato nell'inserzione quindi probabilmente diventerà brand 1 maglia puntini puntini e sotto la descrizione comparirebbe ancora brand 1 raffinata maglieria eccetera quindi fate attenzione in questo caso va benissimo aver messo maglie in mistolino tante volte le descrizioni dei titoli iniziano con il nome del brand e questo può essere un po' controproducente nella performance poi del vostro annuncio quindi se vi occupate di e-commerce e promozione sui social e utilizzate i feed fate attenzione anche a come sono inserite le informazioni all'interno delle schede prodotto oltre alla parte testuale attenzione anche al visual su soprattutto per quanto riguarda gli abiti preferite magari l'abito indossato in quanto può essere più interessante questo esempio qua del maglioncino con la modella piuttosto che il pantaloncino e basta appeso quindi facciamo un punto abbiamo definito gli elementi comunicativi del nostro brand li abbiamo bondellati in base al target di riferimento in che fase del funnel si trovano e rispetto anche magari abbiamo trovato anche degli elementi distintivi che ci possono allargare il nostro ampio raggio d'azione rispetto ai competitor qui è anche molto interessante l'analisi SWOT ora è il momento di agire quindi facciamo un post facciamo un post social lo pianifichiamo il PED l'invito che vi voglio fare è quello di dettare l'operatività del PED in base agli obiettivi del business quindi chiedetevi sempre qual è il vostro obiettivo e partiamo quindi dagli obiettivi del business in questo caso degli obiettivi del brand e del vostro e-commerce dopodiché definite gli obiettivi per i social perché all'interno di una strategia di digital marketing i social non sono altro che un canale che vi permettono delle tattiche per avvicinare l'utente all'acquisto quindi definite gli obiettivi di business definite come i social possono aiutarvi nel raggiungere questo tipo di obiettivi dopodiché quindi imposate la strategia sui canali dei social media definite un piano operativo e dopodiché procedete al PED al piano editoriale che non è altro che un insieme di azioni strategiche che puntano ad un target e un obiettivo misurabile per chi fa social media sempre l'invito è anche quello ogni tanto di vedere la cosa un po' più dall'altro e vedere come si contamina o può supportare gli altri canali di promozione quindi come comunicare i nostri e-commerce abbiamo visto come uno strumento di analisi o diciamo di uno scatto dell'istantaneo del vostro brand può dettare l'operatività su il piano editoriale la pianificazione quindi è dettata dagli obiettivi di business prefissati inoltre può variare rispetto alle stagionalità ricorrenze il piano commerciale dell'e-commerce e il trend di settore ma vale per tutti i social? dipende se abbiamo detto che la nostra comunicazione si varia o comunque si modella anche in base ai target di riferimento capiamo dove possiamo trovare i nostri pubblici magari sono più orientati su per alcuni prodotti magari sono orientati su un target che trovo più facilmente su facebook altri invece su target che trovo più facilmente su tiktok o semplicemente voglio provare tutti e tre i canali però devo tener conto delle logiche comunicative dei vari ambienti social in cui decido di comunicare il mio prodotto e servizio quindi andrò a declinare i piani editoriali di differenti anche comunque se a volte sovrapponibili per i vari canali in cui decido di operare passiamo alla parte di advertising prima di iniziare soprattutto perché è alle prime armi sconsiglio spassionato attivatevi un business manager dopodiché dove potete inserire e trovare tutti gli strumenti che vi possono essere utili nell'impostazione delle vostre campagne e gestione delle vostre pagine o canali social questo vale sia per meta ma anche per tiktok e pinterest poi create l'account pubblicitario e mi raccomando non sottovalutate la parte tracciamenti l'abbiamo visto anche prima quanto è importante sia per il machine learning ma anche per capire effettivamente i risultati di tenere monitorato l'andamento delle nostre campagne per i tracciamenti in questo caso prendiamo come esempio meta si può tracciare gli eventi web attraverso il pixel che traccia gli eventi attraverso il browser e le API conversion che tracciano gli eventi attraverso il server e come funzionano cosa ci permettono questi strumenti di capire l'utente cosa fa una volta uscito dall'ambiente ad esempio facebook o instagram esce a vedere monitorare cosa fa sul sito una best practice consigliata consiste nell'utilizzare le API conversion insieme al pixel di meta per massimizzare l'efficacia del tracciamento degli eventi sul web questo nello schema ad esempio vediamo come in questo caso il pixel diciamo che aveva un gap ed è stato recuperato dai tracciamenti dell'API conversion ma cioè un ma se prima il sollecito di incrementare l'API conversion era per monitorare meglio i tracciamenti dalle restrizioni del browser e sia per ottenere dati da più fonti perché con l'API conversion possiamo anche ottenere dati ad esempio dal CRM o dall'app ora il monitor è un po' più forte perché si preannuncia una potenziale vicinanza al pensionamento del pixel di meta quindi se vogliamo avere un po' più di dati o un po' più di chiarezza sui risultati delle nostre campagne il consiglio espansionato è quello di implementare l'API conversion ci sono vari modi per la configurazione l'integrazione diretta dove non c'è nessun costo di piattaforma però le tempistiche sono più lunghe e avete sicuramente bisogno di un sviluppatore che lavori con voi e poi ci sono ad esempio il gateway di Amazon dove l'implementazione è molto più rapida per gli sviluppatori è tutto molto più semplice ovviamente ci sono comunque i costi di piattaforma ci sono l'integrazione di partner quindi se avete un e-commerce con Shopify la figurazione è molto semplificata oppure ci sono degli hosting di conversione attraverso piattaforme predisposte che permettono un'implementazione rapida non richiede la competenza dello sviluppatore e soprattutto nessuna manutenzione e ovviamente avete i costi di piattaforma però se avete un gestionale molto grande probabilmente ha un costo sicuramente che andate poi ad ammortizzare quindi una volta impostato il tutto quindi abbiamo il business manager l'account pubblicitario e tutti i tracciamenti attivati andiamo al setup delle campagne come fare il setup delle campagne dobbiamo innanzitutto tenere monitorati timing e budget ovviamente tutto quello che ci guida sono gli obiettivi di performance gli obiettivi di performance dobbiamo tenere sotto controllo il calendario commerciale per chi fa advertising sappiamo che novembre dicembre sono mesi tendenzialmente molto impegnativi perché c'è il black friday ci sono tutte le promozioni di natale e poi si devono scaldare i motori per i saldi di gennaio e quindi sicuramente è un fattore da tenere in considerazione e quindi tenere in considerazione i costi e i target da raggiungere e la locazione del budget mensile quindi come abbiamo detto se sappiamo che novembre dicembre gennaio sono mesi importanti le locazioni del budget dovranno essere tenute meno in considerazione nella fase di pianificazione prendiamo il nostro funnel prendiamo quello classico ma giusto per agevolarci l'impostazione del setup e decidiamo un obiettivo campagna gli obiettivi campagna possono essere di awareness quindi magari una campagna copertura una campagna di traffico quindi focalizzata a portare traffico sul vostro sito web di engagement quindi magari ad esempio le presentazioni del video che avete appena pubblicato su instagram oppure l'interazione con un post la raccolta di lead la promozione dell'app oppure la parte di vendita quindi vediamo che le varie obiettivi di campagna seguono un po' l'andamento del funnel classico attenzione in questo caso qua un piccolo nota bene quando entrate su una piattaforma di advertising e social e scegliete la tipologia di obiettivo di campagna in qualche modo state già dando alla piattaforma informazioni sul target che state andando a intercettare perché grazie alla sua evoluzione della piattaforma se andiamo a scegliere una campagna ad esempio traffico la piattaforma sa già che deve intercettare pubblico che senza problemi lascia la navigazione lascia lo scrolling di Instagram per andare su un sito web per approfondire informazioni su un prodotto uguale se selezioniamo la campagna vendita e ci diamo indicazioni alla piattaforma di intercettare un target che è predisposto all'acquisto online quindi decidiamo l'obiettivo di campagna dopodiché dobbiamo impostare il messaggio per segmento e per profondità del funnel quindi in che fase del customer journey il nostro utente si trova e definire il budget sul budget piccolo consiglio cercate di splittarlo quando andate a fare la vostra allocazione o pianificazione semestrale o annuale dividerlo già tra budget per azioni upper funnel e budget per azioni lower funnel in modo anche da poi ricontare diciamo così il budget investito rispetto a determinati KPI ovviamente KPI magari della parte alta del funnel dove voglio intercettare pubblico interessato un determinato prodotto per aumentare le sessioni sul sito in quel caso il KPI sarà la qualità del traffico che porto sul sito oppure sulle campagne performance a questo punto magari impostiamo già campagne di vendita in questo caso il KPI sarà il ROAS questo però vi facilita già nella locazione e poi nel cercare di visionare meglio i dati e risultati che ottenete in questo caso qua se siete un'agenzia concordateli insieme al cliente se siete un e-commerce concordateli insieme all'agenzia però diciamo che è un accordo tra le due parti per avere una visione chiara e concordata ed essere sicuri che non di tutti sulla stessa direzione e budget ovviamente sarà anche poi declinato e impostato rispetto alla soggiornalità come abbiamo visto prima quindi se so che ho un picco verso Natale e so che ho il massimo delle transazioni su novembre scusate magari so che in questa parte dell'anno devo cercare di ritagliarmi un po' più di budget per avere un po' più di respiro questo è un esempio di pianificazione budget in questo caso sulla parte social che eroga è solo la parte di meta dove vediamo delle campagne un po' più orientate sulla parte performance quindi nel nostro schema di prima sarà destinato al budget quello più in blu in blu scuro dove magari abbiamo impostato delle campagne di remarketing dinamico e delle campagne invece sempre ottimizzate per vendita ma che si muove su pubblico broad quindi in realtà dove non è stata indicata una chiara segmentazione del pubblico ma grazie al machine learning la piattaforma eroga cerca di intercettare utenza che orientata all'acquisto perché vi mostro questo schema perché è interessante sia dal punto di vista del piano commerciale quindi dove vediamo che abbiamo un'allocazione maggiore nei mesi di saldo e anche perché è un piano integrato con altri canali paid di promozione le varie tipologie di campagna le abbiamo viste prima quindi percorrono più o meno tutta la parte del funnel per chi fa per la promozione dell'e-commerce in realtà sono interessantissime tutte diciamo che quelle se avete poco budget magari potete optare su campagne di traffico per portare utenza interessata nuova sul vostro e-commerce e le campagne di sales e soprattutto in questo caso se avete buoni dati in piattaforma provare anche le nuove campagne a vantage plus come abbiamo visto prima a pubblico broad interessante anche poi la raccolta lead che su meta o comunque sui social funzionano molto bene il consiglio è quello poi dipende ovviamente dai casi però in generale di utilizzare i form nativi già dei social perché facilitano la compilazione del modulo e una volta che ottenete il lead poi potete in qualche modo coccolarvi il lead sempre attraverso la newsletter quindi non è come l'advertising che una volta che spengo il bottone si spegne faccio off e la campagna non funziona più sulla raccolta lead una volta ottenuto il lead potete poi continuare la comunicazione attraverso le mail sulle campagne stesse abbiamo detto per farle erogare correttamente il consiglio è quello di avere un buon numero di dati poi andiamo a vedere meglio questo aspetto per le tipologie di campagna vi ho fatto vedere prima le interfacce di meta ma ormai più o meno tra i vari canali si assomigliano abbastanza tutti anche gli obiettivi quindi vediamo lo screenshot della gestione e inserzione di TikTok e di Pinterest quindi più o meno gli obiettivi e l'impostazione campagna sono sempre più simili piccola parentesi che abbiamo detto come si intende quando si parla di dati in piattaforma come fornire i dati a meta o comunque i social in generale l'abbiamo visto prima parlando di tracciamento attraverso il pixel API conversion o i dati attingendo dal sito web quindi o dall'app qualora il vostro e-commerce ce l'ha ma anche dall'interazione social dei profili fan follower ottenendo informazioni sui prodotti 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 e correlati come fornire dati a meta anche la buona gestione del pad è importante perché l'algoritmo impara continuamente quali prodotti potrebbero essere interessati per determinati utenti quindi lavorate per far crescere i vostri profili e mantenere un'interazione costante più è ricca di informazioni la vostra panelmente la vostra pagina facebook più aiutate in qualche modo anche le vostre campagne perché fornite alla piattaforma ulteriori dati oltre a quelle di consideration vendite aggiunta al carello che possono avere dal sito questo è molto utile appunto per campagne di pubblico pro di discovery commerce perché fornire questi dati a meta l'abbiamo detto per alimentare i dati e la piattaforma ma anche perché in alcune dinamiche il funnel classico che abbiamo visto all'inizio e che poi si sviluppa in tutta quella cosa tutta quella struttura fluida in alcuni contesti può rimbalzare in questo modo qua nel senso che attraverso il machine learning i ruoli un po' si invertono e non è tanto l'utente che trova finalmente il prodotto che stava cercando ma in qualche modo è il prodotto che trova la persona giusta a cui guardo un po' proprio piace vi sarà capitato intanto di entrare ad esempio su instagram perché volevate semplicemente scrollare il feed e vi siete imbattuti guarda caso su un prodotto che non stavate cercando ma vi piace comunque tantissimo quindi per incentivare o facilitare questa dinamica questo incontro tra prodotto e utente dovete fornire alla piattaforma i dati che abbiamo visto prima e come darli quindi attraverso il tracciamento dalle informazioni che la piattaforma può ottenere dal sito quindi le modalità di acquisto e consideration e invece da tutto quello che sono gli ambienti social gli interessi su determinati prodotti o servizi quando ideate delle campagne o delle strategie per i vostri per il vostro e-commerce cercate di ideare qualora il budget ve lo permetta ideare più touch point quindi questo è un esempio di un setup di piattaforma con varie tipologie di campagna dove andiamo da delle campagne di traffico per portare utenza di qualità sul sito a campagne di remarketing dinamico per la vendita dei prodotti del catalogo e quindi incentivare l'acquista che ha abbandonato il carrello nell'ultimo periodo l'interazione con i post della pagina facebook o del profilo instagram per incentivare l'interazione e far crescere le pagine la raccolta lead per cercare sempre di incrementare il nostro database al quale faremo comunicazioni via newsletter sia editoriali che promozionali e campagne di traffico al punto vendita se avete negozi fisici e una campagna copertura che in questo caso abbiamo visto prima che è nella parte alta del funnel ma in questo caso viene utilizzata one shot in periodi molto limitati ad esempio a ridosso adesso per il black friday può essere ormai è scaduta facciamo che siamo una settimana fa può essere interessante perché ha fatto una campagna a copertura impostando remarketing degli ultimi cinque giorni di chi ha abbandonato il carrello e fare ad esempio una grafica dicendo ultimi giorni sta scadendo l'offerta perché la campagna copertura perché in questo caso vi interessa solo avvertire assicurarvi che chi ha abbandonato il carrello gli arrivi un ulteriore reminder e poi al momento è una delle pochissime campagne meta che permette di impostare la frequenza di impression al giorno quindi potete mettere che lo può vedere l'inserzione due volte al giorno e basta tendenzialmente questa funzionalità su meta non c'è e quindi fare a volte delle campagne così strette con una segmentazione così verticale rischio quello di avere poi una frequenza altissima ed avere un effetto boomerang dati di eventi per quanto riguarda le campagne e-commerce andate spessissimo quindi a visitare la vostra sezione gestione eventi dove potete vedere appunto gli eventi che ricevete dal browser e quindi dal pixel e dal server se avete installato gli API conversion controllate quindi la fattibilità in base al numero di dati che avete a disposizione di quanto può essere sfruttato la tecnologia del machine learning capire anche la dimensione dei segmenti di pubblico vedete magari se avete un'aggiunta al carrello molto ampio sapete che magari potete permettervi quel tipo di targetizzazione se invece è molto basso magari prima serve alimentare il traffico al sito e vedere in generale la salute dell'e-commerce l'altro consiglio è quello di andare sulla gestione delle vendite che abbiamo visto anche prima dove vediamo l'impostazione dei nostri canali dei nostri cataloghi qualora volete fare campagne di advertising attraverso essi nel business manager potete andare a vedere il tutto in origine dei dati nella parte di gestione delle vendite vedere la sezione articoli potete anche creare degli insiemi quindi non so volete promuovere semplicemente determinate categorie di prodotto e per le campagne catalogo potete quindi poi impostare delle campagne d'ABA abbiamo visto prima quindi attraverso l'inserzione a catalogo e lavoro al machine learning e non date troppe informazioni sull'audience quindi potete anche agire senza inserire pubblici simili e senza inserire interessi se avete un buon numero di dati potete lasciare erogare la piattaforma inserite giusto luogo e età e se serve sesso oppure le campagne di remarketing dinamico le campagne di remarketing dinamico funzionano con il feed in questo caso abbiamo selezionato tutti i prodotti e poi gli eventi che si sono registrati dal pixel quindi magari utenza che ha visto che ha visualizzato prodotti negli ultimi 60 giorni gli ha aggiunti nel carrello negli ultimi 30 ma non ha acquistato negli ultimi 14 e qui faremo comparire esattamente la camicetta rossa che aveva visionato sul nostro sito web il consiglio in più in questo caso soprattutto se avete segmenti di pubblico stretti o se pensate che state prendendo troppi troppi dati dalle nuove implementazioni della cookie policy potete provare ad ampliare un po' il vostro target e ad esempio potete inserire o che ha visualizzato già il vostro catalogo all'interno di meta magari ci ha interagito perché avete fatto prima una raccolta o un'inserzione oppure potete caricare i dati del vostro CRM le campagne d'aba stesso setup quindi si funziona col catalogo ma non indichiamo il target quindi diciamo la piattaforma di trovare clienti potenziali anche se non hanno interagito con la nostra azienda ovviamente qua funziona bene lo ripeto se la macchina ha abbastanza dati su cui lavorare sempre se avete buoni dati testate le campagne advantage shopping che se vogliamo fare un parallelo con l'advertising Google sono simili alle Pmax grandi scatole scure però se tracciate correttamente potete monitorare i dati su alcuni clienti li stiamo testando e funzionano molto bene a livello di creatività con la tecnologia catalogo avete tantissima scelta ad esempio le raccolte dalle vitrine potete anche inserire l'esperienza di realtà aumentata magari è interessante se avete la tecnologia e vendete prodotti come occhiali come vi ho visto prima nell'esempio potete inserire tantissime informazioni rispetto anche all'interno del box su magari è un periodo in cui c'è il saldo quindi potete inserire il prezzo barrato o la percentuale di sconto potete andare ad inserire anche dei contenuti identificativi del vostro brand come abbiamo fatto in questo caso e nel setup se trovate questa spunta è interessante fleggarla praticamente comparirà il vostro annuncio per quanto riguarda Instagram sotto altri post correlati quindi magari voi vendete torte nuziali può essere che il vostro prodotto compaia sotto a comunicazioni di abiti da sposa magari interessanti soprattutto per multimarca o e-commerce piccoli se gestite brand importanti magari non è visto di buon occhio dal brand quando andate a sempre impostare il vostro catalogo attenzione alle tessonomie il consiglio è quello di utilizzarlo quindi organizzare i prodotti in categorie e sotto categorie qua vediamo un esempio se vendiamo prodotti di bellezza e ho il mascara magari mascara va sotto make up occhi che a matrioska è sotto a make up bellezza salute bellezza questo permette alla piattaforma di contestualizzare meglio il prodotto che state vendendo e quindi puoi trovare meglio l'utente che lo potrebbe acquistare ci sono le tassonomie ideali per facebook ma vanno bene anche le tassonomie se avete già il feed di google shopping potete anche utilizzare quelle quindi abbiamo facciamo un po' un piccolo recap abbiamo definito gli elementi comunicativi del nostro brand li abbiamo modellati in base al target abbiamo rivisto i coppi rispetto al funnel fluido i bios cognitivi e i punti di forza del nostro prodotto del nostro e-commerce anche rispetto a quello che fanno i competitor abbiamo impostato le nostre campagne di advertising andiamo a capire se stiamo lavorando bene come fare riprendiamo il nostro funnel ridefiniamo sempre gli obiettivi da cui eravamo partiti i KPI che abbiamo deciso di monitorare per capire se andavamo nella giusta direzione e dove guardi i dati dipende il consiglio è quello di non adottare per chi lavora sui social media una visione miope ossia guardare solo i dati su meta per avere una visione puntuale dell'andamento delle vostre campagne il suggerimento quando serve di guardare anche il comportamento dell'utente anche fuori meta esempio facciamo una campagna traffico e decidiamo che è un'azione upper funnel definisco i KPI e dove recupero i dati per una campagna traffico i KPI potrebbero essere i click sul link in uscita o le sessioni sul sito in questo caso quindi ho bisogno di vedere i miei risultati sia sulla piattaforma meta in gestione inserzioni ma anche su Google Analytics facciamo una campagna interazione invece poi in middle funnel perché voglio solleticare l'interesse dei miei fan della pagina guardo il numero di interazioni magari guardo anche se è cresciuto il nostro profilo dove guardo i dati in questo caso su meta perché riguarda l'ambiente social perché le interazioni avvengono facciamo poi in lower funnel una campagna di conversione di vendite come KPI guardo gli acquisti e ritorno sull'investimento dove guardo questi dati su meta perché comunque da tutti dal pixel ottengo anche i dati di acquisti e di ROAS e di aggiunta il carrello su Analytics ovviamente avranno tipologie di attribuzioni diverse ma anche sul gestionale perché sappiamo che con il passaggio a GA4 i dati sono meno puntuali nel senso che tanti sono modellati su statistiche quindi per fare un confronto puntuale chiedete spesso al cliente o se siete voi stessi l'e-commerce andate a vedere poi il riscontro anche sul vostro gestionale delle vendite che entrano quindi mettiamo che avete l'e-commerce con Shopify per andare a vedere l'andamento degli acquisti dell'ultima settimana rispetto all'investimento andate a controllare i dati su meta Google Analytics e Shopify e dopodiché fate un confronto per quanto riguarda i dati meta ma potrebbe valere anche per i dati di Pinterest e TikTok e ci sono diversi parametri che magari potete andare a controllare i più basic diciamo che sono la copertura che sono i numeri di utenti che hanno visto le inserzioni almeno una volta la frequenza il numero medio di volte in cui un utente ha visto la tua inserzione attenzione che qua se molto altra la vostra inserzione può diventare fastidiosa l'impression quindi il numero di volte in cui le inserzioni sono state visualizzate sullo schermo il CTR quindi la percentuale di volte in cui le persone hanno visto l'inserzione hanno eseguito un click diciamo che può essere un indicatore per monitorare l'interesse soprattutto se in una campagna mettete più annunci potete utilizzare questa metrica per capire l'annuncio che è piaciuto di più e poi ci sono le visualizzazioni della pagina di destinazione che è un parallelo alla sessione di analytics tant'è che questo infatti è un dato fornito dal pixel se andiamo a vedere poi le varie voci che possono compilare le nostre colonne per il monitoraggio delle delle campagne vediamo le interazioni che avvengono su meta le conversioni che sono sempre dati finiti dal pixel e le varie impostazioni qui potete creare le vostre trabelle secondo i KPI che volete andare a monitorare se andate a cliccare sempre in gestione e inserzione di meta nella parte di report personalizzati potete anche crearvi dei grafici o delle tabelle più dettagliate altro consiglio per il monitoraggio e l'analisi utilizzate gli UTM cosa vuol dire aggiungete dei parametri ai vostri URL di atterraggio che se quando vi sarà capitato quando cliccate su un link e vedete che c'è un punto di domanda e poi una stringa di codice è proprio qua che troviamo l'UTM che è quindi un tracciamento che quando l'utente clicca diamo informazioni a Google Analytics da dove è arrivato l'utente per quanto riguarda la parte social potete inserire origine dei dati quindi da dove arriva la campagna in questo caso mettiamo che abbiamo fatto una campagna su Instagram inseriamo Instagram il mezzo campagna quindi è organico o a pagamento esempio e il nome della campagna non so promozione Black Friday qui un suggerimento sulla terminologia qui potete inserire i nomi che volete sono arbitrari poi Analytics prende e riporta però vi do alcuni consigli sulla parte di origine potete mettere questa stringa che fa riconoscere a Google Analytics la sorgente in modo dinamico mettiamo che voi fate una campagna su Meta e fate erogare la vostra campagna sia su Instagram e su Facebook se voi digitate Facebook poi per Google Analytics vi aggregerà tutto in quel termine lì se utilizzate questa stringa di codice in automatico Google Analytics sarà per riconoscere se l'utente arriva da Facebook o arriva da Instagram come mezza campagna potete utilizzare Pet Social e nome della campagna arbitrario in questo caso era una campagna di remarketing dinamico e abbiamo messo la sigla RMKD se andiamo poi su Google Analytics questo era già tre ma gli UTM vengono letti benissimo anche da Gia4 quindi utilizzateli vediamo che poi nel nome campagna lo ritroviamo qua sorgente mezzo FB perché in questo caso va riconosciuto l'utente arrivare da Facebook e Pet Social utilizzando Gia4 il consiglio è quello di utilizzare Pet Social in modo che aggreghi già i dati sulla parte di paid quando ho fatto un report interessante l'abbiamo detto prima come vedere i dati soprattutto per le campagne performance guardate sia i dati da piattaforma ma anche da Google Analytics e cercate di fare un parallelo in questo caso abbiamo messo le sessioni in parallelo al landing page view vabbè transazioni entrate ROAS sono poi dati che abbiamo in entrambe le piattaforme ovviamente con gap diversi perché c'è un tipo di attribuzione diverso diciamo che adesso da quando Google Analytics da Gia4 non riusciamo ad avere le conversioni indirette potrebbe essere interessante valutare eventualmente i dati di meta considerando sia le conversioni last click che indirette se fate campagne di raccolta lead oltre che a monitorare i dati su gestione e inserzioni di meta o su gestione e inserzioni del social che preferite oltre a vedere i dati da lì quindi magari copertura costo per lead e il GTR sull'inserzione la frequenza andate a vedere poi anche i dati sul CRM quindi quando raccogliete i dati fatti in modo che quelle lead lì vengano inserite in un segmento in cui verrà associato un UTM diverso al momento dell'invio della newsletter per monitorare l'andamento oppure se avete accesso andate direttamente ai dati del vostro CRM quindi andate a monitorare le lead ma anche la raccolta lead ma poi andate a vedere quante delle lead raccolte aprono la mia newsletter quante ci cliccano e in questo modo già nei primi tempi andate a in qualche modo misurare la febbre sulla qualità del lead ottenuto dopodiché potete anche andare a vedere ovviamente le entrate che hanno generato così avete veramente una panoramica chiara dell'andamento della vostra raccolta lead quindi ricapitolando abbiamo fatto in questa oretta poco più una panoramica delle varie opportunità dei social media sia a pagamento che organico per promuovere il vostro e-commerce abbiamo visto come si evolvono le azioni di chi fa digital marketing nel contesto del funnel classico nel contesto del funnel fluido spero di avervi dato in questa breve panoramica gli strumenti giusti per non aver paura di questo funnel fluido ma di cavalcarne le opportunità e grazie per l'attenzione e buon lavoro a tutti ci sono domande allora vado un attimo in piattaforma sto cercando di recuperare la domanda ah ok definizione di bias cognitivo dunque diciamo che ci sono delle modalità decisionali che sono in qualche modo ancestrali e ci permettono di ci permettono di velocizzare la nostra decisione di acquisto quindi se in un contesto di confusione siamo super stimolati mettiamo che cerchiamo un telefono o un nuovo smartphone vado su google vedo che ci sono tantissimi modelli per le caratteristiche che scelgo quindi se ci sono delle informazioni che mi dicono che dura nel tempo è sicuro ha la connessione 5G o magari un telefono che è resistente perché mi cade spesso perché ho dei bambini e spesso lo lanciano e ci sono degli elementi rispetto a determinate categorie che rendono più sicuro l'utente nella fase di acquisto quindi dovresti andare a vedere i bioscognitivi rispetto a le loristiche di categoria e per facilitare la decisione rispetto all'utente che ti sta leggendo per gli annunci di advertising spero di averti risposto poi chiedono per la generazione dei lead B2B cosa consigli sempre Facebook o Instagram allora sulla parte B2B il tema è un po' più complesso nel senso che è più ostico dipende dall'industria che stai promuovendo funziona molto bene anche su LinkedIn ti direi però dipende da la tipologia di prodotto e servizio che vendi e dal target di riferimento grazie a te Luisa che visto che hai scritto in chat se ci sono altre domande abbiamo ancora qualche minuto quindi se volete Gianluigi rispetto al B2B se vuoi indicarmi l'industria che avevi di riferimento magari riesco a darti più contesto hai ancora due minuti se vuoi scrivere muletti ok questo è sfidante è sfidante non me ne intendo devo essere onesta dovevi studiare un po' l'industria dipende molto allora che è il tuo target e se quel target potrebbe ad esempio trovarsi su LinkedIn oppure potrebbe essere interessante magari anche un advertising su YouTube facendo poi come obiettivo la generazione lead perché magari il muletto mi invento mi immagino perché perdonate non conosco molto bene il prodotto però magari delle determinate caratteristiche che un video può spiegare al meglio e quindi potrebbe essere YouTube o un video il vostro canale di promozione dico YouTube perché un po' più ad ampio raggio comunque potete andare a terchettizzare forse meglio in questo caso per industria perché magari a differenza di TikTok o Instagram che magari si accede anche per avere una sorta di intrattenimento quindi apro il social perché voglio un attimo staccare la testa e guardarmi qualche video divertente invece magari su YouTube l'utente potrebbe avere un'attenzione un po' più attenta scusate la ripetizione perché magari va anche a cercare tutorial o comunque video informativi ok mi dicono che dobbiamo chiudere quindi io ringrazio tutti per per aver seguito la lezione spero vi sia stata d'aiuto e grazie in bocca al lupo a tutti per i vostri e-commerce l'ultima cosa scusate vi ricordo il prossimo appuntamento con Alessio Pomaro il 17 gennaio a presto e grazie di nuovo a tutti a presto